Ciao a tutti, come vedete sto indossando questo magnifico cuscino per la cervicale da viaggio in pratica cos'è? è un cuscino gonfiabile che potrete portarvi in viaggio dovunque e comunque sarete quindi in auto, in treno, in aereo, io lo consiglio soprattutto alle persone che appunto per lavoro o per piacere devono viaggiare spesso, questo è comodissimo, vi permetterà di potervi riposare tranquillamente senza andare a sforzare i muscoli del collo e della cervicale come capita spesso a chi purtroppo deve stare sempre in viaggio è semplicissimo si gonfia in un attimo si mette e vi permetterà adesso non so se riuscite a vedere bene la posizione di mantenere una posizione corretta per il vostro collo e la cervicale questo vi eviterà a lungo andare quei dolorini quei fastidi e indolenzimenti che si creano appunto mantenendo posizioni scorrette per lungo tempo è un'idea sempre di Dixa24.com e lo potrete avere direttamente a casa vostra con spese di spedizione gratuiti quindi mi raccomando guardate è carino tiene poco spazio perché poi una volta sgonfiato lo potete mettere dove volete e vi permetterà appunto di viaggiare stando comodi e rilassati non fatevelo scappare mi raccomando grazie a tutti